ciao a tutti ragazzi siamo della clan rgr oggi oggi dobbiamo fare un video speciale un video speciale sui 20 iscritti e addirittura dovevamo farlo a 20 iscritti dato che io ero andato a bagno a cagare non lo potuto fare quindi stiamo facendo ora che abbiamo 22 iscritti quindi parliamo di che cosa parliamo da dynamic parliamo parliamo delle ragazze parliamo della ragazza a dire attenzione fana c'è la nevo purtroppo scusate ragazzi lasciate un commento per degli congratulazioni finalmente si è liberato di quella strega ma proprio quella strega non sapete cosa faceva noi andavamo fuori alle feste mentre lei lui stava con lei a casa ad annoiarsi a vedere un film romantico ragazzi mentre noi eravamo lì a divertirci con gli amici e lui invece era sbaciucchiarsi con quella befana ok scusa scusa rector solo ok parliamo del nostro canale un attimo come come mai questo cavolo di canale si chiama rgr come abbiamo preso queste lettere tre lettere diciamo praticamente all'inizio della storia di questo canale eravamo io dynamic e un altro e l'altro quello che abbiamo messo in mezzo che si chiama con la g se ne è andato via quindi siamo rimasti la prima era che sono io e l'ultima r che è dynamic ma non è che è andato via solo che non ha voglia di fare video è ok è comunque finora il canale ci chiamano i due cosa? i soldi se li bica un e due e con l'immezzo tra i tre tra i te litiganti i due goti non interessa lascia perdere il soldi non mi interessa ok e praticamente stai zitto ok e il video praticamente facciamo un ok dove eravamo rimasti ok eravamo rimasti che eravamo in tre ma ora siamo in due in cui in cui i più video fatti c'è maggior parte dei video sono fatti ovviamente da dynamic anche da me però più da lui che sta sostenendo ancora il canale dato che io sono a volte molto occupato con eccetera eccetera a parte le 6 a parte quello come possiamo dire da vedre state già conoscendo un po' noi che siamo due rincoglioniti comunque noi no intendiamoci non siamo due froci siamo due amici non siamo due froci ok mi raccomando però intendiamoci anche questo che viviamo anche in due posti diversi io in italia lui in inghilterra quindi in inghilterra forza forza io che non sto scherzando fa schifo ok in alcuni modi ok poi parliamo di del canale aggiornamenti del canale ovviamente presto dovremmo fare una nuova serie su giochi online che in cui vorremmo che conosce vorremmo farvi conoscere dei nuovi giochi online che non credo che tutti italiani fanno questi tipi di serie cosa del genere quindi dato che noi giochiamo tantissimi giochi online inglesi non inglesi marocchini e cinesi eccetera vengalo e non siamo resisti ovviamente m quindi presto faremo una serie su come lo chiamerò una serie se ne su mista seri mista lui non sa immaginari c'è non ha immaginazione se mi sei per il nome sarebbe comunque io non ha detto a rett non lo dita nessuno io ho comprato comprare delle cose da amazon amazon o amazon e farò degli unboxing e spero che i buzetti per gli unboxing anche se sono principiante e siccome non ho un'altra persona cui mi possa sostenere la mia videocamera lo farò un po' un po' di merda diciamolo e comunque anche se c'era qualcuno farebbe comunque di merda perchè principiante ok e mi raccomando iscrivetevi 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 perchè noi vogliamo solo gli iscritti non vogliamo non vogliamo praticamente delle persone serie che guardano i nostri video serie non persone come le bagnarine non come un idiota che ho visto ieri che ci ha commentato che si è iscritti e ci ha commentato invece è la stessa persona non diciamo nomi perchè sarebbe uno spesa ok lasciamo perdere queste cose praticamente vorremmo dire vorremmo ringraziarvi soprattutto voi che ci avete sostenuto dato che in un periodo volevamo far lasciare tutto il video ma è arrivato un iscritto che ci ha dato la passione per video cioè non è che erano iscritti eravamo in 5 all'inizio che eravamo iscritti noi poi abbiamo visto che si è aggiunto uno e ho detto oh mio dio ma guardate questo si è aggiunto allora perchè allora non facciamo schifo non siamo dei froci rincoglioni che si fanno inculare sui giochi di merda allora siamo figli infatti abbiamo continuato a fare i video ok che vi dico ragazzi Dianmi è un po' impazzito non datelo retta in tutti i casi comunque abbiamo finito il tempo dobbiamo andare e no no aspetta non dobbiamo andare come non dobbiamo andare? siamo a 5 minuti eh ma io devo andare a cagare vabbè questa parte tagliala non potrei tagliare ok comunque abbiamo finito il video ci dovremmo fare un'altra speciale forse 50 iscritti non si sa mai non lo sappiamo non so che cacchio sto dicendo comunque ho 7, 8, 9 e finisce il video ciao ragazzi ciao a tutti no 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 aspetta la... l'acca come aspetto cosa c'è è stato un attimo vabbè che è il più teat chi pensa, io sono un maniaco non sono maniaco chi pensa che sono pedofili non sono assolutamente un pedofilo allora c'è ragazzi chi deve andare in giờ la vera del led del trattatore critica che ci sono